Un miele aureo, è quello prodotto dagli alveari collocati in località San Marco di Matteo Tomassini della cooperativa Apicoltori Gubbio Gualdotadino. Un miele che alle porte di Bologna, per la precisione a Castel San Prieto Terme, nella quarantesima edizione del Tre Gocce d'Oro, celebre concorso di caratura nazionale per la selezione dei migliori mieli della penisola, ha ottenuto ben due gocce d'oro nella categoria Millefiori, ovvero il miele che si produce con maggior facilità e per questo quello con la maggior diffusione su scala italiana. È stata una stagione un po' complicata, però al concorso erano presenti 1.222 mieli, quasi 400 Millefiori e uno dei Millefiori della cooperativa che ho prodotto io nella zona di San Marco è stato premiato con due gocce d'oro, quindi sì, è una bellissima soddisfazione, anche perché 400 Millefiori in concorso non era mai successo. Noi in Umbria e nella fattispecie qui a Gubbio produciamo, i premi lo dimostrano negli anni, uno dei migliori Millefiori d'Italia. Questo perché abbiamo una varietà molto molto ampia di fioriture nel periodo del raccorto che va fondamentalmente da maggio ad agosto. E se la cooperativa Apicoltori Gubbio Gualdotadino può vantare anche un altro riconoscimento in questo 2020 con il miele prodotto da Walter Ambrogi che ha ottenuto una goccia d'oro, il premio della doppia goccia aurea è anche un passaggio di consegne tra Mauro Tagliaferri, che ha ricevuto la medesima attestazione nel 2019, a Matteo Tomassini, testimonianza del grande lavoro sia qualitativo che quantitativo compiuto dalla cooperativa Gubbino Gualdese negli ultimi anni, nonostante un clima estivo che ha reso estremamente complessa la produzione vista la corposa siccità dei mesi di luglio-agosto e la persistente presenza della tramontana. Assistiamo anno dopo anno a delle conseguenze del cambiamento climatico che noi apicoltori contiamo con mano tutti i giorni. Il nostro lavoro è diventato più complicato proprio perché non abbiamo più quella connessione tra fioriture e api, quindi le stagioni sono cambiate e abbiamo assistito a un'estate molto siccitosa, sempre ricca di vento di tramontana che asciuga le nostre fioriture, quindi le api trovano molto meno. Purtroppo la situazione poi si tramuta in perdite di produzione importanti, in genti, in tutto il territorio nazionale, con punte del meno 90% per esempio in Sardegna, meno 70% in Sicilia e in Umbria purtroppo la situazione non è andata meglio. Nel Gubbino siamo sul meno 50%, ma nel complessivo andiamo anche a punte del meno 70% di produzione. Quindi l'antidoto è quello di giocare d'anticipo, con il livello attenzionale e di cura degli alveari che deve rimanere necessariamente alto per crescere ulteriormente e continuare ad ottenere risultati lusinghieri che hanno rimarcato come l'operato della cooperativa apicoltori Gubbio Gualdutadino sia di assoluto livello, ben oltre i confini regionali. Sulle api bisogna andare sempre in anticipo e gli interventi a causa del cambiamento climatico sono molto aumentati. Purtroppo molto spesso l'anno scorso siamo dovuti ricorrere a nutrimento di soccorso altrimenti perdevamo le api perché proprio non avevano da mangiare. Quest'anno di sicuro siamo riusciti a gestirle meglio, però la manutenzione dei nostri alveari è molto più importante.